Il nostro paese è noto a tutti e lo sanno bene i numerosi turisti che scelgono il nostro paese anche per questo motivo. Ma un dato, probabilmente finora era ancora sconosciuto, l'Italia è il primo paese al mondo che utilizza l'energia solare. L'8% dei nostri consumi energetici infatti è coperto dal fotovoltaico. A rivelarlo è un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, organizzazione intergovernativa che raccoglie 29 paesi fra i più industrializzati del pianeta. Nella classifica l'Italia è seguita da Grecia e Germania che con l'energia solare coprono rispettivamente il 7,4% e il 7,1% del proprio fabbisogno energetico. Per fare un raffronto, il petrolio estratto con le trivelle, oggetto del referendum di domenica prossima, copre appena lo 0,2% del nostro fabbisogno energetico. L'Italia quindi è promossa a pieni voti nell'utilizzo dell'energia pulita che viene dal sole grazie all'impegno compiuto soprattutto tra il 2007 e il 2012. Ora però si prevede una frenata a causa dei tagli del governo agli incentivi per le rinnovabili contenuti nel decreto competitività.